Credo che noi come Bresciani abbiamo sempre dato un esempio virtuoso di saper fare, di essere delle persone concrete, di essere delle persone che ci credono. Anche questa volta, pur in una grande incertezza di quello che sarebbe successo, perché non c'era un programma preciso, abbiamo saputo dare il meglio di noi stessi, abbiamo saputo interpretare questo spettacolo in una maniera meravigliosa e siamo riusciti a raggiungere l'obiettivo, che è stato quello di mostrarci per quello che è la bellezza di Brescia e del suo territorio a tutto il mondo.